Non crediate che questa sia una bazzecola. Il gigante dei giganti, l'azienda che tutti percepiscono come la migliore del mercato e quella con la più alta capitalizzazione negli Stati Uniti d'America, andrà in frantumi. Ecco perché. Ciao a tutti, io sono Pietro e benvenuti in un nuovo video. Eh no, io non sono Pietro, sono Pasquale. Ah, è vero che ti allontani un attimo da casa per le vacanze e poi ti ritrovi che tua moglie ti ha spostato tutti i mobili e adesso non riconosco più dove sono. Vabbè, cominciamo. Siamo tutti abituati a usare dispositivi mobili, PC, tablet, ma altrettanto tutti sappiamo quanto Apple abbia cambiato il modo di concepirli. Evidente il loro modo superante di creare un brand che abbia un appeal, quasi un modo di distinguersi dalla massa. Ma è ancora così? In realtà sì, ma ci sono grossi guai in vista o perlomeno un grande avvertimento. È una guerra commerciale che in perverse ancora c'è fra Cina e Stati Uniti d'America. Infatti è notizia recente che la Cina abbia ordinato ai dipendenti delle agenzie governative centrali di non utilizzare iPhone Apple o altre tecnologie di marche straniere sul luogo di lavoro. Il Wall Street Journal ha riportato che, per la prima volta, il personale ha ricevuto istruzioni da loro superiori nelle ultime settimane in chat di lavoro o durante incontri riguardo alla nuova direttira mirata a limitare la dipendenza di Pechino dalla tecnologia straniera. Questo spostamento è stato anche considerato un modo per rafforzare la cybersicurezza nell'ambito di una campagna per limitare la diffusione di informazioni sensibili al di fuori della Cina. Il Wall Street Journal prevede un effetto raffreddante per i marchi straniere in Cina, compresa la Apple. Sebbene la mossa miri in generale i smartphone di produzione straniera, Apple si distingue poiché la Cina rimane uno dei più grandi mercati. Il paese continua anche a essere una parte significativa della sua catena di approvvigionamento e produzione anche mentre trasferisce una parte della propria produzione in paesi esteri come l'India. Con la Cina, che rappresenta una parte così importante del proprio risultato finale, Apple ha portato modifiche al suo software iOS in passato per soddisfare il paese Cina come limitare per esempio la finestra temporale di airdrop a 10 minuti o rimuovere emoji che potessero avere la bandiera taiwanese dentro. Ma a quanto pare sembra che questo non sia bastato, anzi gli USA di conto rincarano la dose. Infatti gli Stati Uniti hanno applicato una propria restrizione nei confronti delle tecnologie straniere verso la Cina come dimostrato dai divieti rip and replace di hardware Huawei e ZTE e dai tentativi in continua espansione di vietare TikTok a livello locale, statale e federale. Più di recente Nvidia e AMD hanno dichiarato che il divieto di vendita di chip per l'addestramento dell'AI, l'intelligenza artificiale, che originariamente era mirato a Russia e Cina, si è stesso a includere paesi anche del Medio Oriente, anche se funzionali statunitensi negano che l'amministrazione Biden lo abbia mai fatto. A mano a mano che la rivalità fra le due potenze economiche aumenta, il presidente cinese Xi Jinping ha posto la maggiore enfasi sulla sicurezza nazionale determinando un aumento del controllo statale sui dati e sulle attività digitali negli ultimi anni, secondo quanto riportato sempre dal Wall Street Journal. Inoltre a luglio 2023 la Cina ha approvato un'ampia espansione della sua legge sul controspionaggio ampliando la definizione di spionaggio e affermando che documenti, dati, materiali e oggetti legati alla sicurezza nazionale e agli interessi godono della stessa protezione dei segreti di Stato, secondo quanto ha riportato Reuters. Il mese scorso il Ministero della Sicurezza di Stato della Cina ha esortato i propri cittadini a partecipare al lavoro di controspionaggio creando canali per segnalare attività sospette e premiando coloro che lo fanno. Roba da grande fratello, insomma. Apple è una fonte di milioni di posti di lavoro in Cina attraverso i suoi produttori e fornitori su contratto e la maggior parte dei prodotti dell'azienda è proprio assemblata in Cina. Negli ultimi anni Apple ha rispettato le richieste del governo cinese rimuovendo alcune app considerate illegali, comprese le app di rete virtuale privata o VPN, che consentono agli utenti di aggirare i filtri di internet cinesi e di alcune app e di videogiochi o, come abbiamo citato prima, emoji su Taiwan e la limitazione di airdrop a 10 minuti. Nel 2021 Pechino ha anche limitato l'uso dei veicoli Tesla da parte dei dipendenti militari cinesi e del personale di altre importanti aziende statali, citando preoccupazioni sul fatto che i dati raccolti dalle auto potessero comportare rischi di fuga di informazioni sensibili per la sicurezza nazionale sempre secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal. Queste azioni di ripicca commerciale reciproca potrebbero negativamente impattare Apple anche in maniera importante a mio parere e per cui la seguirò la cosa con molta attenzione e infatti i mercati in questi due giorni hanno fatto un bel tonfo, soprattutto per Apple. E tu invece cosa ne pensi? Per favore dimmelo nei commenti qui sotto. Ricordandoci che questi non sono consigli a investire o non investire in questo o in quell'altra azienda ma solo spunti per scopo didattico di approfondimento, in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominci a far parte di questa community con una maggiore presenza, la tua iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto!